Ho provato a vendicare i fedeli di Loreto a cui non ha dato la mano. Prima l'igiene. A un certo punto, quella mano va a ghiando. Ah, per quello troppo di bacia a mano. Non lo sai, se c'è ghiando, non so se ti fa in contagio. E' più per loro che per te. Invece la mano, invece la mano. No, non lo sai. No, non so. Non lo sai. Non lo sai. Fini, non lo sai. No, non lo sai.